Mi sentite? Hello? Qui ho Boken! Non capisci un cazzo su questo... Madonna, perdonami! Abbiamo iniziato a seguire tutte le attività che fanno i morfettesi qui a Gabbok e Remigati. È un lavorazzo immenso, immenso. Blue team, red team, let's go! Mi ha fatto malo ciuccio, mi fa le gaffe, a me tutto sopposto. Tanti morfettesi, tanti americani che hanno voluto sì che anche qui a Do Boken ci fossero le luci originali di morfettes. Non nascondo che sta tutti fuggire. Non l'anno facciate, Gaudo. Facciate una piccola di majestà. Tre, due o tre, tre. Allora, mi sono di premio. È vero, è piovuto il primo giorno. Sono le luminelli accesi, vediamo che con l'acqua... Ma il secondo giorno la Madonna ha fatto sì. E sentivo che ci stava un matto dalla morfetta che aveva portato le luci qui in America. Le luminarie venute dall'Italia, da morfetta, sono gentili. Un piccolo pezzo di morfetta che è arrivato qui a Do Boken. Le immagini più importanti sono i volti, sono i volti delle persone, le emozioni che loro sentono. Quelle sono le immagini più importanti, le persone. Lavorano col cuore dal vento. Grazie per il collegamento, a voi. Salve.